Partito! 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 Esi So So Super Ghi weiss Ma adesso come una Wurta la parte, l'asso Inizio, 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 l'asso Nö, das is schlecht Das is Auch schlecht I jama, multi bit Sì, non è un pollo. Sì, è un pollo. Non, è un pollo. Non, è un pollo. Poi! C'è un pollo. Hai anche due griefe di lungo? Hai ancora due griefe di lungo? Si, hai un pollo. Ho un pollo? Qu'est'altro di questo? Mi? No, 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 no. Voi? Falle in tutti i trei da tutta? Si Sì Sì Bravo grazie alexia i like it both